Siamo da terrazzo marcata, ora o mai più. Versagli disponibili, al lavoro! Trigger 3 ricevuto, attacco in corso. Impatto, effetto nullo. Sputti! 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 mi tiro giù innescò una mina anticarro innescò una mina anticarro gassi in avvicinamento Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Ci avevo già pensato. Vittoria, non c'è cosa per nessuno, ben fatto. Vittoria, non c'è cosa per nessuno, ben fatto. Vittoria, non c'è cosa per nessuno, ben fatto. Vittoria, non c'è cosa per nessuno. Vittoria.